Nel 2016 l'attenzione del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni Puglia è stata rivolta prevalentemente ad attività rientranti negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, del financial cybercrime e dell'informazione sull'uso consapevole dalla rete internet. Nell'ambito della Polizia Giudiziaria, per quanto attiene reati di pedopornografia e adescamento in rete, sono stati denunciati 26 soggetti, eseguite tre misure di custodia cautelare in carcere disposte dall'autorità giudiziaria, trattati 28 casi denunciati dagli esercenti della potestà genitoriale ed effettuate 30 prequisizioni. Per quanto riguarda le attività di prevenzione in rete condotte attraverso le attività di monitoraggio, sono stati analizzati 409 siti internet, tra i quali 61 a carattere pedopornografico estrapolati inseriti nella blacklist. Inoltre sono state ricevute complessivamente 1675 denunce riguardanti principalmente il settore delle truffe online e-commerce, a seguito delle quali sono stati denunciati 329 soggetti, nonché eseguite quattro misure cautelari e un arresto in flagranza di reato. Sul fronte degli attacchi informatici sono stati trattati 238 casi realizzati prevalentemente attraverso il furto di identità digitale e la diffusione di mail, trappola o malware. Nel campo del Financial Cybercrime, attraverso l'utilizzo di alcuni mezzi informatici specifici, sono state bloccate e sequestrate transazioni in frode per un importo di oltre 272 mila euro, a seguito di un'attività investigativa internazionale che ha portato all'individuazione dell'autore del reato. Sempre nel 2016 il portale del commissariato della polizia di stato online ha ricevuto 418 denunce online di cui ratificate 129. Sul fronte delle campagne di informazione e sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet, l'impegno del compartimento è stato rivolto per la realizzazione a livello regionale del progetto Comunica in sicurezza, in partnership con il Corecom Puglia e l'ufficio scolastico regionale, nonché l'attuazione di campagne promosse a livello nazionale contro il cyberbullismo, tra cui Una vita da social, buona sapersi, e Safer Internet Day, mirate ad elevare le competenze digitali soprattutto delle nuove generazioni. Nel corso dell'anno sono stati realizzati 38 incontri educativi presso istituti scolastici, raggiungendo circa 7.000 studenti, 882 genitori e 732 insegnanti.